Sera Cusa, mafia, operazione San Paolo. Carabinieri braccano due ricercati in carcere. L'intervento di sicurezza sul territorio con l'operazione San Paolo ha visto l'arresto di 24 persone, di cui 5 ai domiciliari, ma soprattutto ha svantellato un'organizzazione di tipo mafioso che, oltre all'odioso traffico di stupefacenti, ha approfittato dell'oggettiva difficoltà del momento da parte dei piccoli imprenditori per imbastire una rete di usura e attività finanziarie abusive. Nella giornata di ieri, su delega della Direzione Estettuale Antimafia e i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Siracusa, coattivati dai militari della tenenza del Floridia, hanno dato esecuzione alle ultime due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Tribunale di Catania nell'ambito dell'operazione San Paolo nei confronti di due soggetti inizialmente dichiarati irreperibili in quanto domiciliati al di fuori del territorio nazionale. Nella mattinata di domenica i carabinieri hanno pertanto tratto in arresto per spaccio di sostanze stupefacenti due siracusani, AR 41enne incensurata e Massimiliano Rossitto 47enne, con precedenti di polizia attualmente domiciliati a Malta. I due arresto di Enne chiudono il cerchio intorno all'associazione di tipo mafioso riconducibile allo storico Clan Aparo e capeggiata da Massimo Calofiore e Giuseppe Calofiore, organizzazione già colpita il 27 luglio scorso da 24 misure di custodia cautelare all'interno dell'operazione denominata San Paolo.